Il revenge porn oggi è un fenomeno purtroppo molto diffuso. Inviare, pubblicare e diffondere immagini e video con contenuti sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate è un grave reato. Il materiale pubblicato sul web o nelle chat può diventare velocemente virale esponendo le vittime ad un'onda mediatica incontrollabile. Se subisci atti simili, non chiuderti in te stessa. Non è colpa tua. Rivolgiti subito alle forze dell'ordine per presentare una denuncia o querela e al garante della privacy per chiedere la rimozione dai social network del materiale lesivo. Troverai persone pronte ad ascoltarti. Ricorda, nessuno ti giudicherà. La prevenzione è fondamentale. Tutela la tua privacy e non condividere immagini personali che possono essere compromettenti.